ci sono marco 88 ehi la ciurma sono mazzetesse benvenuti in questo nuovissimo video di untarned oggi creeremo una parte della nostra casa non la costruiremo sull'isola ma abbiamo deciso di costruire in mezzo al mare in modo tale da non avere scocciature e avere spazio per espanderla prima solo un piccolo chiarimento questa roba qua non l'abbiamo citata diciamo sono stato un po io off camera alla fine dell'altro episodio in cui ho piazzato delle sementi ho espanso le coltivazioni poi vi spiegheremo bene ma almeno così non moriamo di fame mentre facciamo la casa e ho messo un pochettino di cesta e visto che ho trovato una una motosega nella fattoria qua vicino all'altro non so nemmeno se esistano i cheat in questo gioco ma provente si da console vuoi che non ci siano modo per abbiamo piazzato comunque delle fondation qua per fare il ponticello e in più abbiamo già iniziato a piazzare le fondamenta per la casa per l'abitazione ci sono quelle sei fondamenta che appunto saranno da da basamento per la nostra casa adesso vi faremo vedere anche un camera quello che serve in pratica per fare una casa su untarned perché il crafting è un pochettino complesso bisogna ammetterlo perché con tutti quegli strumenti che si possono fare con legno a combinarli è un po una cosa complessa però adesso adesso vediamo diciamo vi faremo vedere spero che gli stick mi bastino se no prendo la sega a mano dovrebbe esserci qua ok io sono già nel ponte anche perché l'italiano suona male la sega a mano però è hand so hand so è mano e so è sega quindi le traduzioni in inglese italiano fanno veramente schifo basta guardare world of warcraft ma anche poi tipo untarned cosa sarebbe non girato una cosa del genere ma non è la cosa peggiore ehi lazio benvenuti tutti in questo nuovissimo episodio di non girato allora innanzitutto ci serviranno dei pillar dei wooden pillar che marco 88 ci sta craftando immagino si fanno con degli stick fai dei wooden support ogni due stick ci da un wooden support e mettendo un wooden support con una board 1 e 1 dovrebbe essere mi confermi marco sono in proporzione di 1 a 1 e tra l'altro non so se l'hai notato ma sembra quasi magico questo gioco tratti degli oggetti c'è la possibilità che da un pezzo cali di peso sì sì la maggior parte delle volte cali di pe cali di peso è stranissimo va bene che magari craftando mi stavano norma di mare sto oscillando troppo ne ho fatte 15 ok inizia a piazzare quelle che ci servono qua piazzare negli angoli queste qua esterne 1 2 3 1 2 3 1 2 e poi anche due praticamente devo piacere ogni vertice diciamo delle platform cioè in realtà in quelli interni non dovrebbero essere necessari dopo se si riveleranno necessari le mettiamo in fondo però per le per le cose esterne ci servono perché altrimenti non puoi mettere il muro qua e la ancora ok puoi droppare un attimo i pillar che soliti sono rimasti che li uso per craftare le pareti innanzitutto vogliamo fare qua metterei una porta qua in quello centrale no il muro con la porta magari è cosa vedo se riesco a crearne altri per caso ti sei portato via la sega si tra troppo da mio si troppo mia sera e la sera dicevo e poi vogliamo fare delle finestre da qualche parte direi di fare le finestre che vanno verso l'acqua dove c'è il ponte e in modo tale che no ne facciamo verso il ponte in modo tale se si espandiamo verso di là assi ma a parte che come spazio credo che ce ne sarà abbastanza possiamo farla in altezza più che altro è più secondo me è più comodo in altezza anche perché si sprecano meno risorse perché non devi fare le foundation ma devi fare solo le platform comunque allora io inizio a craftare facendovi vedere quello che ci servirà per fare le pareti per fare le pareti abbiamo bisogno dei wooden frame e dei wooden pillar mi pare in proporzione di due wooden frame per un wooden pillar infatti con uno e mille non lo fa adesso quindi crafterò con con se tenete premuto control vi fa ve li crafta tutti insieme se non lo sapevate ancora tipo marco tu lo spevi no ecco se tieni premuto control prima di cliccare su craft te li crafta tutti come potete vedere due wooden frame e un wooden pillar ci da un wooden wall prendiamo tutti quelli no che scemo ho craftato un wooden post vabbè dopo li piazzeremo e allo stesso modo contro il più clic vi fa equipaggiare un oggetto no adesso saranno altri pillar allora metto questi se mi serviranno altri pillar innanzitutto piazzo le pareti che ho fatto quelle senza finestre perché le altre ci serviranno per fare le grazie grazie dei 15 le altre ci serviranno per fare quelli con finestre da questo lato mettiamo solo la porta e basta gli altri due li faccio muri pieni che dici direi di fare questi che vanno verso quei tre finestre ma facciamo in mezzo alla porta e questo pieno penso quei due pieni ok anch'io pensavo tipo così allora adesso facciamo negli altri vodent freddo che vado a raccogliere un po di legna io vai a prendere a casa un po di legna secondo me siamo una macchina la sfrutto così per andare a casa se allora noi craftiamo abbiamo bisogno ancora di sei pareti 4 ecco non ho più legna ho bisogno di legna innanzitutto vi faccio vedere quelle per le finestre per le porte visto che ci avanza tempo per aspettare mi è passato sopra con la macchina grazie marco allora sto craftando dei wooden support che si fanno sempre con due stick e un wooden wall con un wooden support si trasforma in un wooden doorway c'è lo spazio per la porta di per sé non ha la port cioè si chiama doorway perché non ha la porta se lo piazzo adesso vedete è vuoto in mezzo non c'è la porta la porta è da craftare a parte e ve lo faremo vedere magari più avanti adesso invece prendendo dei wooden wall e dei wooden support otteniamo come vi ho detto prima le wooden doorway se noi craftiamo adesso degli altri wooden support e utilizziamo questi con il wooden doorway otteniamo un wooden window sono in proporzione di 1 a 1 se non sbaglio esatto quindi otterremo 3 wooden window che anche qua hanno solo lo spazio perché la finestra di per sé che secondo me non è anche carinissima è tipo una cosa che si chiude si crafta a parte a parte che così possiamo anche lasciarlo aperto così si vede fuori in realtà si può cascare anche fuori eh infatti come vedete stavo per cascare in acqua però basta che uno non si butta in mare va tutto bene no credo che vada bene in fondo no? se poi a voi va bene a me va bene tutto così se fa caldo puoi sempre rinfrescare puoi sempre buttarti in acqua ma parete che qua l'acqua non ci manca infatti è comodo perché uno ha sete magari c'ha la borraccia va qua e l'acqua del mare si può utilizzare come abbiamo visto già negli altri episodi ecco qua l'acqua dammi un po' di legna per favore l'unica acqua pericolosa è quella in bottiglia di tavole? eh? tra l'altro l'unica acqua pericolosa veramente è quella marcia in bottiglia si no l'acqua di mare no l'acqua di mare no è salata e in più esposta alle radiazioni no quella poi benissimo bella anche quella dei pozzi tra l'altro questa cosa dell'acqua mi fa ricordare questo ho giocato da solo senza registrare a un gioco che si chiamava no no Nostate of Decay insetta ci mancano due mura se non sbaglio quindi questo via questo via e piazziamo queste e così i muri li abbiamo finiti e siamo a posto e siamo a posto a questo punto direi che il pieno terra è ultimato si sto a state of Decay io ho giocato in pratica nel primo capitolo si scopre che gli zombie finendo in acqua l'avevano contaminata chiaramente c'erano catastrofi di cadaveri dentro le riserve idriche e secondo te cosa bevevano? acqua delle riserve idriche? contaminata dagli zombie esatto io sto pensando a questo se crepano gli zombie dentro l'acqua alla fine crepi anche tu che i zombie sono contaminati ma si davvero vabbè un po' in piccole imprecisioni diciamo dei giochi adesso quindi crafteremo le wooden platform che ci serviranno per il tetto io pensavo non so Marco se tu sei d'accordo di fare degli altri piani successivi o con una scala o con una rampa tu cosa dici? ok io dico che a me piace la rampa dato che la scala è pericolosa potersi discreppare si a parte che da un piano di altezza non ti rompi le gambe però si anche a me piace di più la rampa comunque inizierò col craftare le wooden i wooden come si chiamano wooden platform che si craftano ho bisogno di un po' di legna ce n'hai ancora di legna? si ne ho parecchia perfetto cosa vuoi che ti crafti? craftami dei wooden plate io intanto ne approfitterò per creare i wooden cross che sono gli altri oggetti che ci servono per fare quanti più o meno ne vuoi di wooden plate? non mi ricordo in quante proporzioni sono tu fanne 6 per ora poi dopo vediamo ok te ne ho fatte 19 ops vabbè ma secondo me me ne servono di più che 6 però era per vedere quanti me ne servivano a parte che queste ci servono anche poi per fare le piantagioni quindi non è male allora se noi mettiamo un wooden cross con un wooden plate il wooden cross si fa sempre con i wooden support che si fanno dagli stick noi otteniamo una wooden platform che a differenza dalla wooden foundation non è una fondamenta quindi non occupa tutto lo spazio ecco infatti non mi bastano gli affari che ho fatto usiamo anche tutti questi stick usiamo anche questi non so control click marco ok però non li metto tutti e sei dove vuoi che lasciamo il buco per la la rampa io direi che potremmo mettere tipo una rampa qua di lato basta che non sia in mezzo no appunto qua in questo angolo va bene no così anche veloce se uno arriva da fuori può subito salire su no però forse vedi servivano i pillar non posso piazzare la la cosa se non c'è il pillar beh tanto me ne rimangono qua li sto craftando no no ne ho ne ho non craftarli please pensavo di craftarli per fare un secondo piano in modo tale che avevamo un piano a testa ah ok ci può stare e poi facciamo un piano per le coltivazioni o facciamo in un'altra parte no facciamo due piani tanto il tetto non servono i pillar perché lo lasciamo no esatto due piani e poi dopo le coltivazioni dove le mettiamo facciamo un altro spazio o sul tetto no sul tetto del terzo piano ok benissimo adesso ci serve la wooden come si chiama la rampa insomma che si crafta se non sbaglio con la wooden platform e con un ecco non ho più stick hai degli stick si grazie managgia quanti con control click puoi dropparli tutti sai e li ho droppati tutti io quando ho scoperto la cosa del control è tipo stata la cosa più bella della mia vita allora vediamo se mi serve se mi servono quelli perché non ne sono certissimo perché la rampa l'ho fatta solo una volta sì esatto esatto wooden support e wooden platform messi insieme due support e un e una platform fanno la wooden ramp che adesso possiamo piazzare tanto che fai io vado a recuperare altra linea no io voglio piazzarla da questa parte invece perché non me la fa piazzare da quel lato no voglio salire dalla voglio salire dall'altra parte no ma no me la fa piazzare solo da un lato perché sto scemo me la fa piazzare solo da una parte io la voglio piazzata dall'altra perché sei così stupido oh non me la fa piazzare cioè non me la fa piazzare da quel lato più che altro non ti voglio girata così hai l'ascia o il martello dove sei andato? per provare a sfasciare quello per vedere se si risolve la situazione arrivo subito ho andato a prendere perché qua si attacca solo da questo lato io non voglio attaccarla da questo lato voglio attaccarla da questo tra l'altro ti servono ancora foundation perché non ne avevamo usate 8 no foundation no 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 le ho lasciate là apposta perché non ci servono per ora a meno che poi dopo non vorremmo espandere la non vorremmo espandere la aspetta sì che servono perché dobbiamo fare il terzo piano per le culture aspetta eh sì per quello servono le platform non le foundation arrivo ecco qua spacca questo qua questo qua davanti qua sopra quale? questa platform qua sopra perché la vuole collegare a quella però non cioè io volevo collegarla a quell'altra là se effettivamente queste cose sono un pochettino bugate dovrebbe darti almeno la possibilità di girarlo io intanto ti guardo spaccare la legna ok perfetto adesso vediamo se me la fa piazzare o se è stato no me la fa piazzare solo in quella direzione perché? why? ma io non lo so me la fa mettere solo in questa direzione salendo su di così fa provare fa provare aspetta te la droppo è questa qua intanto raccolgo cosa hai preso? avevo preso le foundation cioè come sprecare spazio vedi che la fa mettere solo di qua non la fa mettere di là oh sono uscito è stupido come cosa ah così così cosa sei riuscito a piazzare ah ho capito perché non se lo fa piazzare perché va il piano di sopra quindi ha bisogno di appoggiarsi su qualcosa che non sia la parete cioè ma qua non si appoggia la parete si appoggia a questo ad esempio qua me lo lascia mettere guarda qua si così perché deve appoggiarsi ma cosa cambia scusa quando ero qua scusa quello sono uguali c'è sempre la parete da tutti e due lati in modo uguale ah qua me lo fa piazzare invece eh sì in questa direzione sì ma io non volevo farlo piazzare in questa direzione volevo farlo piazzare in questa perché così è più comodo no quando entri entri giri a destra sali non è che devi fare tutto il giro perché se lo metti di qua devi fare il giro così no se no possiamo mettere di qua che sale qua però non capisco perché è quello eh intanto crafto delle altre platform perché ci servono allora io avevo bisogno dei wooden cross dei wooden plate hai dell'altra legna per caso delle tavole ce ne rimane ancora tanta a casa o dovremmo andare a farne no abbiamo abbastanza legna non tantissima però ce la dovremmo fare spero eh allora aspetta io ti droppo intanto i wooden pillar così puoi metterli ce li ho già ce li hai ok perfetto io metto crafto le altre foundation allora aspetta adesso telepiazzo e perché no me la piazzi qua ok perfetto te gusta? manca un pillar lì ok lo metto lo piezzo subito ok adesso manca solo una rampa le pareti il soffitto e basta lo facciamo per le colture da quanto stiamo registrando? da 21 minuti dice il mio quindi secondo me possiamo chiudere qua questo episodio in cui abbiamo fatto vedere questa parte nel frattempo facciamo le pareti e vi facciamo vedere nella prossima settimana le fondamenta sopra cioè le piattaforme sopra dove metteremo le coltivazioni come se fosse una serra insomma infatti che dici Marco? facciamo così? io direi sì perfetto così intanto prendiamo anche altre legna ok quindi un saluto da Marco88 e da Mazzetes e vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao ciao